Era un giovedì, il 21 febbraio 1861, quando il presidente del Consiglio, Camillo Benzo Conte di Cavour, presentò al Senato il progetto di legge per cui Sua Maestà, il re Vittorio Emanuele II, assume per sé e per suoi successori il titolo di re d'Italia. Secondo un giornalista che seguì alle 14.30 in diretta l'annuncio, subito dopo le parole di Cavour, nell'aula ci furono applausi vivissimi e generali. La legge però non fu proclamata in quella seduta, il senatore Pollone infatti ricordò che la Camera dei Deputati non aveva ancora perfezionato il suo insediamento e che un voto così importante doveva essere preso a Camere Congiunte. Così la votazione fu rinviata il 26 febbraio quando il Parlamento si riuscì in seduta plenaria. Ed era anche il 21 febbraio, sempre nel 1861, quando Francesco II di Borbone e la consorte Maria Sofia arrivarono a Roma dopo aver lasciato Gaeta. Ospiti di Papa Pio IX, Francesco e Sofia furono alloggiati al Quirinale.